Il libro comincia un po' con lo stesso stile, vedendo insieme queste due figure che poi si formano insieme nella creazione di questa famiglia che nasce nel modo più naturale e più tradizionale possibile e che cercasse in questo libro dei colpi di scena, la storia avanti sempre in modo lineare, ma nella sua linealità. Il libro comincia un po' con il cuore della creazione, perché la mia domanda è, con tutta umiltà, se te te puoi cambiare la destinazione. Perché vuoi cambiare la destinazione? Perché non vuoi cambiare la destinazione, se te puoi sperare anche per tutto l'inverno. Aspetta un po', che ti dà la spiegazione. Allora, speriamo per andare da tutto l'inverno, perché le ho un calzo per tutti l'inverno. Ma l'ho, il problema con l'inverno, perché pure la porra del fuoco. Sei un'altra? Non è un'altra, ma si corta, corta, questo è corta. Che bella donna, che bella donna. Ma chi sente la sua vita qua le ragunne, perché una donna c'è. Ma chi sa quanta mani tra ragunne, ma sento quei figure, l'este una donna morigere, l'este una donna incisa, una donna scia, perché allora non dà, non dà, non dà, non dà, però se non si rimane, mi dà conto anche a te, l'este una bella donna, strassi ne. Strassi! Strassi! Grazie a tutti